Benvenuti a tutti, inizio con una brevissima, ma proprio con super coincisa presentazione. Sono Carina De Sousa e la maggior parte di voi, insomma, sapete già chi sono, mi occupo di export del vino sul mercato brasiliano, non solo. E oggi, dopo torneremo su questa cosa qua, oggi abbiamo deciso di fare questo webinar per presentarvi una di quelle che sono le strade, gli strumenti più efficaci per entrare nel nostro mercato. Ho degli ospiti importanti, perché ho Simone e Elisa che fanno parte del team. Aspettate che intanto cerco di togliere l'audio. Il link, fanno parte del team di Wine South America, che è la fiera che appartiene al gruppo Vin Italy, appunto nel continente sudamericano, si trova in Brasile. Oltre a loro abbiamo una testimonianza anche di storia, appunto, di un'azienda che è stata già in questa fiera e che quest'anno torna, quindi ho invitato un export manager, Antonio Romeo, a farci cinque minuti di racconto. E abbiamo anche Luis, che fa parte del mio team in Brasile, per quello che è la logistica e strategia di import, e quindi dogana. Ecco, questo è un tema anche importante. Allora, cerco di... sto cercando velocemente di... Vabbè, un po' piano piano strane entrano tutti. Vi chiedo ancora scusa di questo piccolo problemino. Bene, da dove iniziamo? Faccio... condivido le slide, taglio un po' i pezzi. Ecco, prima vi parlo. Ok, vedete il mio schermo? Sì. Ok, perfetto. Contero. Ok, prima di iniziare, appunto, la presentazione, vi do quelle che sono le regoline, ok? Le regoline, appunto, è che parleremo velocemente, ma riceverete in primis, prima di tutto, anche le slide, poi i numeri, perché qui ci sono dei dati, tendenze, numeri di mercato che sono molto interessanti. Vi arriveranno poi dopo, molto di queste informazioni, sono già dentro all'ebook, non so se avete avuto modo di leggerlo o meno, ma diciamo che sono complementare, quindi lì nell'ebook abbiamo tantissimi dati sul mercato brasile come in generale. In più abbiamo un po' i numeri del mercato dell'importo dei vini, diviso anche per tipologie di vino, insomma, è abbastanza interessante, ho cercato di essere molto, molto, cioè, di dare un po' tutto in modo conciso all'informazione. Le domande le faremo negli ultimi cinque minuti, ok? Quindi, se volete, potete anche iscriverle a tutti i tre relatori e io inizio, appunto, parlando, presentandomi nuovamente. Quindi, sono, appunto, Carina De Sosa, sono il CEO del gruppo in KDS International Business Consulting, che fa, appunto, che trattieni, che è il proprietario, diciamo, del brand KDS Food & Wines. Quindi, non facciamo solo internazionalizzazione e export di vino, ma prima, ad esempio, parlando di Sabina, che adesso si occupa, che è la nostra parte dell'Asia, che si occupa, ad esempio, da parte di cosmetici e tutto il resto. Io, però, mi chiamo anche Carina Regalo Pontual Machado De Sosa, ok? Quindi, vi volevo dare questo input perché, appunto, sono brasiliana doc e poi ho avuto la cittadinanza italiana, perciò in Italia io sono Carina De Sosa, in Brasile io sono Carina Regalo Pontual Machado De Sosa ed è importante questo perché questo significa io la uso la mia identità brasiliana. Io sono 100% brasiliana. Sono delegato d'Italia per Wine South America, appunto, quindi mi occupo di curare le aziende che uso come, cioè, curare le aziende con questo strumento, quindi con la fiera, che per me è la cosa più importante. Allo stesso tempo, molti di voi mi conoscete come ambassador per il Sud America del Merano Wine Festival. Non c'entrano niente, ma è importante perché? Perché siete in Italia e così da questo riferimento riuscite a capire che c'è serietà, c'è serietà dietro questo lavoro, che è una cosa molto importante, ok? Perfetto, adesso iniziamo velocemente. La prima, la domanda è, chi di voi non è ancora stato in Brasile? Perché andiamo a parlare del Brasile, vi faccio vedere, qui vi ho messo anche i miei due passaporti, quindi questi sono documenti molto importanti, e vi faccio vedere questo bellissimo paese, il Brasile. L'unica informazione, al di là del vino, che vi do in questo momento, è riguardo appunto al fatto che stiamo parlando di un paese federale con 26 stati indipendente, più il nostro distritto federale, che è Brasile, la capitale. Perché vi dico questo? Perché è molto, questa è un'informazione molto importante per capire da dove viene la difficoltà anche a livello, oltre che a livello logistico, no? Di, è grande come un continente, l'Italia sta 27 volte dentro il Brasile. Oltre a questo, per farvi capire proprio che, ah, se io arrivo col mio vino a Rio de Janeiro, o a Spirito Santo, o a San Paolo, e devo andare a Minas Gerais, è già che c'è un problema. E quindi oggi non è il caso, però quando, siccome andremo ad arrivare alla parola. Vi chiedo chi ha l'audio acceso, se ce lo può mutare solo in questo momento, grazie. Quanto è complicato, perché questo significa che per lavorare in Brasile, come negli Stati Uniti, come negli grandi paesi in questo senso, c'è necessità di una strategia. Non si può pensare di contattare soltanto l'importatore via internet e pensare di fare delle vendite senza capire la dimensione, o nemmeno accettare di chiudere dei contratti in esclusiva con il primo che passa, ecco. perché è comunque un paese tanto complesso. Non andiamo a parlare di questo, ma questo ci serviva come input, è anche molto interessante, ingresso per il Mercosur, che sarebbe come la vostra comunità europea, quindi molto importante entrare in Brasile, perché entrando in Brasile noi riusciamo anche ad attingere altri paesi che sono in questo momento anche importanti, toliendo l'Argentina, diciamo che il Sud America, col Perù, altri paesi, insomma sta avendo un momento importante per il vino. Parliamo del mercato nazionale e di importazione. Parliamo di 380 milioni di litri di vini commercializzati, venduti all'anno, il quale 92% sono fermi, che è divisi tra rossi bianchi e rosè, naturalmente rosso comanda, ma abbiamo una tendenza assurda, una crescita molto interessante, come sta succedendo anche in Italia sui bianchi, e il rosè anche lì c'è una crescita, questi sono numeri del 2020-2021, questa prima parte, quindi poi così è già cambiato. 8% sono gli spumanti, ok? Dopo andiamo a parlare anche, ecco, vivo di quello che è il mercato, diciamo, opportunità per il Brasile, aspetta che sposto intanto la così, non riesco a leggere, parliamo della produzione del vino in Brasile, perché non so se sapete, il Brasile è un grandissimo produttore di vino, ed è anche un esportatore molto interessante, perché inizia già veramente a fare numeri, io stessa sono importatrice in Italia, ormai di due, quasi due, perché siamo in fase di operazione, chiusure, perché c'è interesse, c'è interesse in tutto il mondo, anche per il vino brasiliano. Perché questo? Perché voi italiani siete immigrati lì, e avete fatto un ottimo lavoro, e dopo Simone ci racconterà appunto un pochino sulla fiera, e capirete anche che siete nella città più italiana in assoluto, io ogni volta che vado lì mangio i tortellini, e la lasagna, cioè non trovo, trovo difficilmente i piatti brasiliani, perché la cultura è cento per cento italiana. Allora, parlando di Brasile, vi dico, questi sono dati ufficiali, anche della Sensory, che è una società con quale noi collaboriamo in Brasile, e dati ufficiali brasiliani, quindi gli investimenti, riguardo alla produzione, alcune informazioni interessanti, perché gli investimenti in Brasile, nei vignetti sono sempre in crescita, sempre maggiore, quindi esiste una migliore qualità delle uve, e del vino brasiliano, nuove tecnologie anche, quindi nuove tecniche di coltivazione, studi di terroir, tecnologie, innovazione, molti giovani che vanno a studiare all'estero, lì c'è un rifusma, studiare all'estero, che tornano molto motivati, e portano appunto quello che è, solo una parentesi, Brasile è l'unico paese del mondo, che ha la doppia poda, cioè che noi facciamo due o tre vendemi all'anno, in alcuni casi, alcuni vigneti, quindi abbiamo delle, diciamo, una modalità di lavoro diversa, e che ci sta producendo tantissimo risultato, anche a livello dell'economia. Avanzamenti del turismo, il turismo è sempre più interessante, quindi nuove esperienze per i turisti, passeggiate tra le vigne, degustazione, la ceca, abbinamenti, gli wine garden, che sono questi momenti di ritrovo, dentro a queste cantine, insomma, c'è tutta una modalità diversa, ma sempre più in crescita, anche del turismo, e che fa sì, che anche loro, che anche verso il nostro paese, quindi l'Italia, perciò il vecchio mondo, cresca sempre di più questo interesse, nel nostro turismo. Cambiamenti dei consumi, quindi il vino è diventato, durante la quarantena, nella prima bevanda, c'è stato appunto, in quel periodo, una crescita di quasi 20%, con una migliore distribuzione, anche, e accessibilità. Prima, diciamo che c'era più una lobby, non so se si può dire così, adesso invece, è molto più capillare, tutti, in tutti gli stati brasiliani, si trovano l'importatore, la distribuzione, e anche livelli diversi, che andiamo a vedere, perché è molto interessante, appunto, la crescita del vino pregiato, brasiliano. E Brasile ha tantissime, sta avendo tantissimi investimenti, nel mondo del vino, come vi ho detto, no? Quindi fa sì che, nascono delle cantine piccole, cantine boutique, con un vino strepitoso, tantissima tensione alla qualità, che appunto, questi sono quelli che vengono sportati, e questo vino pregiato brasiliano, solo nel 2021, ha avuto una crescita nel consumo, nelle 20, di 23%. Questo naturalmente dà l'input, al vino pregiato anche straniero, perché chi beve bene, non è che dopo fa un passo indietro, e scegli l'importato, che vale meno. Quindi, il vino brasiliano, la crescita della produzione, per noi, io non li vedo come competitor, ma è molto interessante, perché dal Brasile, poi si va verso l'estero, appunto. Consumo, più 16% di importazione di champagne, nel 2021, poi nel 2022, tutti i dati aggiornati, ce li avete nel vostro ebook. Quindi abbiamo 16% di importazione, del champagne spumante, che i brasiliani amano le bollicine, perché amano festeggiare, festeggiano sempre, è sempre festa, e quindi lo spumante è importante per la nostra cultura, c'è un errore anche lì nell'italiano. 5% di importazione di vini, ma crescita, la crescita anche del 23% della vendita, quindi non solo l'importazione del vino straniero, fuori dal Brasile, ma anche il 23% nella vendita. Il 35% invece di crescita, per gli spumanti brasiliani, ma attenzione, vendita di vini fermi, vite americane, sono calate. Sono quelli vini che prima il brasiliano consumava, perché era poi quello che costa meno, con uve che vanno bene, cioè sono buone lo stesso, ma certamente non è il vino, che in Brasile si chiama di vino fino, è vino fino. Molto interessante, perché questo significa, calando quello lì, che ha una qualità un po' più, tipo il vino da tavola, non so se Simone che è qui, mi può confermare o meno, giusto? Sì, davvero, è il vino di tavola, ma fatto di uve americane, allora, ibride. Ibride, ecco, brava, grazie. E quindi calando questo, c'è un aumento anche del consumo di vino di più qualità, che è quello che ci interessa. Quindi l'analisi della domanda, velocemente esistono, nuovi consumitori, consumatori, grandi investimenti nel settore del vino, in diverse aree, quindi noi parliamo dell'educazione, parliamo dell'enturismo, parliamo della produzione, parliamo delle nuove professioni anche che sono nate, quindi c'è stata proprio una rivoluzione nel mercato. Cresce la conoscenza e la qualità del vino consumato in Brasile, quindi questo è importantissimo, perché appunto oggi tutti investono in questa formazione, è diventato proprio un amore. e devono trascurare il comportamento appunto della, scusate, del consumatore, nel senso che il brasiliano è un popolo che festeggia sempre, non mangia a casa, mangia pochissimo a casa. I brasiliani, non so chi è stato in Brasile, sa che i ristoranti aprono alle 11 del mattino e chiudono alle 4 di notte, non ci sono pause, sono sempre pieni. Quindi anche lì la convivialità, il comportamento del consumatore brasile, bisogna stare sempre insieme, uscire dopo il lavoro, quindi c'è molto, il paese aiuta molto, non è molto portato a questo. Aumento della formazione, come abbiamo detto, a livello nazionale, esiste l'ABS, l'associazione brasiliana sommelier, esistono tutti i corsi online, YouTube è un canale di crescita e di formazione enorme, gratuito, quindi punto di debolezza, è necessario, pazienza per l'apertura di questo mercato, cioè il tempo, che poi nell'export è una cosa che tutti i mercati richiedono, in Brasile un po' di più, perché i brasiliani sono tanto carini, però anche sono tanto, cioè non si sanno dire proprio di no, e quindi è sempre un sì, e quindi stai lì sempre a trattarmi le volte, abbiamo anche che esiste di qua, che dopo non so se Antonio vuole fare una parola su questo tema, è un popolo bellissimo, ma ci vuole pazienza anche per capirlo, ottimo mercato di vini premium, questo ci interessa, un lusso che cresce, ma si concentra ancora nelle grandi capitali, ma sempre in crescita, quindi noi abbiamo opportunità per dei vini di tutti i livelli, cioè in tutte le fasce, la gastronomia, la grande presenza delle asine italiane, e degli italiani favoriscono appunto questo consumo di vini premium, perché noi stiamo parlando di 30 milioni quasi di abitanti di brasiliani con discendenze dirette e indirette dell'Italia, di italiani, con 307 mila italiani iscritti all'aere per il mercato brasiliano, quindi stiamo parlando veramente di un mercato che è un mercato da saudaggi, che è un mercato molto importante per noi, profitto per salutare tutti i nostri produttori che stanno entrando, e tutto il nostro team commerciale brasiliano che sta partecipando, insomma sono molto contenta. Bene, arrivati a tutti. Analisi della domanda ancora, no, no, ancora no, aspetta, aspettate che c'è stato un rifuso, ok, canali di distribuzione, l'importatore è una figura obbligatoria, tutti i giorni ci arrivano richieste, noi abbiamo qui la Silvana che lavora, che lavora con me anche, di aziende che vogliono vendere a privati direttamente, non si può. In Brasile questo qui non è il tema, sto cercando di correre, ma possiamo approfondire anche nelle vostre domande. ci vuole il figura dell'importatore, se non c'è l'importatore una trading commerciale che faccia l'operazione, e questo è indispensabile. Diventa sul territorio nazionale, poi questo importatore è responsabile fiscale, civile e pennale, perciò è importante questa figura, una figura che investe tanto, va scelta bene, perché a 360 gradi poi risponde in tutti i sensi. La normativa è molto rigida della dogana, anche a livello di etichettatura, noi parliamo nell'etichetta, dobbiamo mettere i dati dei produttori, importatori e distributori, distributori per la legge della tracciabilità, e che può diventare un problema per alcuni esegni commerciali, che in Italia usano solo i codici. In Brasile no, bisogna proprio mettere nell'etichetta chi ha prodotto. e quindi sono piccoli accorgimenti che possono purtroppo bloccare il vino indogana, quindi questa proprio è la base della base, più da tutti i documenti, io non so se qua ci sono i miei clienti traumatizzati, quelli delle ultime importazioni che stiamo facendo, ecco, sanno bene cosa dico. La CDO, la CDO per una questione culturale ha diverse modalità di vendita, quindi non è la GDO che uno pensa, a parte che oggi in giorno la GDO in tutto il mondo è cambiata, ma da noi si trova il vino. In Scafale, dipendendo dalla posizione del punto vendita, quindi in quale quartiere è, trovi anche all'interno del luxury store o di store on store, quindi gestiti da un'enoteca fuori, delle vere e proprie enoteche con dei sommelier che ti danno tutto un supporto e tutto un servizio che difficilmente si vede anche qui da noi. Quindi la GDO non va mai trascurata in Brasile. Ultimo punto qui importante, decisione di acquisto dei vini. Interessante perché questo io ritengo che sia molto importante per un'azienda italiana che vuole entrare nel mercato brasiliano. Anche se voi siete stati cercati da un importatore, perché alcuni di questi, di voi che state partecipando, siete i miei clienti, dell'azienda che io ti chiedo di dire... Fai amministratore o simile o co-amministratore... Grazie, così mi aiuto un attimo perché Carlo... Non ti sento più. Ok, mi sentite adesso? Adesso sì. Ok, perfetto. Quindi canale di distribuzione abbiamo... Ok, abbiamo parlato... Cosa molto interessante di chi... Per chi sta cercando di entrare nel mercato brasiliano è tutta la parte del social media, ok? Dei siti, insomma, la visibilità in internet è indispensabile per il mercato brasiliano. Se non ci sei e se non ci sei bene, non esiste per loro e non investono se non riescono a vedervi, a tracciarvi, a avere contatti diretti con voi. È molto importante. Noi, ad esempio, ogni settimana facciamo una diretta con un produttore italiano che mandiamo in Brasile ai nostri importatori e distributori perché è molto importante questo per loro e non solo. Da quel momento lì loro iniziano a cercarvi, iniziano a scrivervi anche direttamente. Questa tracciabilità è fondamentale per il consumatore. Quindi, noi stiamo parlando del 53% degli acquisti fatti dai siti che la decisione è presa da quello che vedono nei siti, negli app dei diversi importatori dei negozi e dei brand. L'e-commerce guida il nostro mercato non solo nel vino ma ovunque. Noi adesso stiamo iniziando con Amazon e vediamo dei numeri stratosferici. 43% consigli di amici e familiari. Quindi, ecco che il rapporto come qua in Italia è fondamentale. 34% Instagram 17% Facebook. Instagram, per quello che so, quest'anno è già aumentato di parecchio perché questi sono numeri un po' già passati. e qui vediamo che la parte del mercato del vino in Brasile guardate che interessante supermercato quindi la GDO il brasiliano ha bisogno di prendere la bottiglia in mano quindi l'importanza di avere delle belle etichette che si che si si vedano nei scaffali ecco perché stiamo parlando di un popolo estremamente emotivo emozionale sensibile e visivo quindi ha bisogno del packaging che il packaging è quello che fa molto la differenza in questo momento poi il online digital 12% e poi tutto il resto nell'on trade quindi baris i restaurantes poi abbiamo qui anche quelle le birre che era il nostro principale è il nostro principale competitor non diretto ma sui canali di distribuzione parliamo velocemente consumo del vino ecco qui io vado un po' veloce prendete un po' i numeri che sono poi vi arriva il tutto da questo studio che è stato fatto nell'ottobre 2021 tra gli uomini e donne ok quindi la fetta di mercato era quella più di 18 anni naturalmente tanto uomini quanto donne e i loro ultimi acquisti dell'ultimo anno e mezzo diciamo così era appunto era la referenza pressi pressi 6 euro circa la bottiglia questa questa indagine è stata fatta con questa diciamo questa media allora chi è basso per il Brasile molto basso il vino appare come la bevanda preferita dei 49% dei brasiliani il 20% ha iniziato a bere in occasioni diverse ossia non solo a pranzo e cena ma insomma anche da soli vedremo qui ecco i 15% i brasiliani bevi già da solo a casa il 6% investi un buon vino quando sa di essere una buona compagnia e quindi fa la differenza il buon vino il 43% lo scegli per una cena speciale o con ospiti il 42% cerca etichette diverse quindi c'è una gran curiosità il 40% bevi solo a casa il vino il 42% acquista due bottiglie alla volta il 18% 3 il 20% consuma una volta alla settimana il 17% due e il 12% di tre a quattro volte alla settimana sono numeri interessanti quando noi andiamo più a fondo a studiare gli stati come abbiamo visto all'inizio sono tanti stati questa è una media nazionale che in alcuni stati come in San Paolo esponenzialmente più alt altri più basse cosa interessante prima di chiudere passare ai ragazzi che a livello strategico sono molto importanti sono le tendenze del mercato quindi come vi ho detto prima sono molto curiosi quindi qui stiamo parlando di un'apertura enorme alle novità sono molto ricettivi ricettivi ai vostri nuovi prodotti alle nuove esperienze hanno un grande quindi un'altra cosa che hanno un grande interesse per le uve meno conosciute perciò anche quelle autottone ma che non sono non brand le uve che ci vuole tutto un storytelling indietro quindi questo piace molto i brasiliani c'è la tendenza ai vini leggeri e agli spumanti quindi questo continua a crescere così come i rosè non ho messo ma continua sempre innovative e interattive quindi QR code che fa vedere il vostro sito piuttosto che porta anche a qualsiasi modalità di intrattenimento cioè di coinvolgimento quindi la connection con il packaging crescita del consumo tra i giovani e l'accettazione di nuove tecniche di vinificazione quindi qui stiamo parlando di quelli che possono essere dei vini naturali oggi surlis tutto quello che è un po' le novità del mercato anche qui insomma in Brasile adesso c'è una gran richiesta maggior nemico dei prodotti italiani in Brasile è la mancanza di strategia perché siamo a 10.000 di distanza la strategia ci vorrebbe sempre comunque ancora di più in un paese così lontano quindi proprio per arrivare a parlare della fiera che fa parte di quella che è la strategia cioè il nostro modello di business quindi chi lavora con me sa che è importante che noi passare da questo da questo aspetto abbiamo conosciuto i numeri quindi i numeri brasiliani sono molto interessanti ma per arrivare a entrare in questo mercato ci vuole strategia ci vuole pazienza e ci vuole un test di mercato e bisogna andarci capire e vivere col paese noi abbiamo scelto prima facevamo tante degustazioni all'anno Sabina lo sa una cosa passesca di lavoro abbiamo scelto adesso di lavorare di fare una fiera il primo semestre uno al secondo al secondo quindi stiamo parlando della Wine South America appunto ma perché perché fa parte della nostra strategia per noi questi sono i punti fondamentali per definire una strategia quindi io devo sapere dopo una simulazione di importazione in primis è quello che facciamo quindi con Luis che dopo vi dirà due cose riguardo sempre all'export del vino in Brasile noi facciamo una simulazione e vediamo a quanto va a costare questo prodotto in Brasile con questa informazione noi posizionarlo perché con l'analisi di mercato e il business intelligence quindi l'analisi di tutti quei numeri che ogni stato ci dà noi riusciamo a individuare i consumi i pressi e posizionarlo e da lì noi andiamo in una fiera perché vediamo se è veramente così prima di andare oltre ed è lì che noi abbiamo scelto appunto Wine South America e vi diranno loro perché preferisco così perché è normale ma fa parte di una strategia partecipare lì perché lì tutti possono degustare i vostri vini mentre se io devo fare una degustazione a San Paolo a Minas Gerais mancherà sempre uno stato perché è troppo grande questo paese una volta fatto questo noi torniamo a casa con un follow up e decidiamo come entrare come quale canale di distribuzione utilizzare facciamo tutta un'analisi di dati di sell in con B2C il sell out con B2B insomma facciamo viceversa scusate e facciamo tutta e cerchiamo di identificare questi canali di distribuzione così come identificare marketing perché noi dobbiamo sapere rispondere alla domanda perché il brasiliano deve bere il mio brunello piuttosto che l'altro il mio primitivo piuttosto che quelli che sono in mercato da vent'anni quindi andiamo a tropicalizzare la nostra comunicazione la nostra e la nostra veste anche se necessario quindi anche packaging dopodiché appunto andiamo a creare quei contenuti appunto che servono nei canali giusti secondo il mio canale di distribuzione e secondo il mio target dove sta il mio cliente quindi gli investimenti che andiamo a fare saranno nei social piuttosto che in degustazione piuttosto che tutto questo però a scalare perché uno senza altro non è un progetto oddio scusate è un progetto che possiamo dire che è incompletto ma tutto questo possiamo farlo solo se abbiamo gli obiettivi chiari dove vogliamo arrivare con questo export quindi che siano che sia piantare una bandierina che sia in tre cinque anni fare un business plan per crescere entrare in quel continente che si chiama Brasile ma senza questo si fa fatica detto ciò io per due minuti chiedo non so se c'è Antonio della fiera perché so che lui deve scappare ok Antonio non so se li sentite magari non mi vedete io mi chiudo aspetta io mi chiudo io non ti vedo però non mi vedi ma no non capisco perché non si sta attivando lo schermo ma va bene ti sentiamo non so come mai ah sì ah no ti vedo sei in macchina mi vedi anche sì sono in macchina ok 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 allora Antonio Romeo export manager di Bosca Spumanti Antonio ben arrivato sei arrivato io sto facendo un po' tutto di corsa perché siamo abbiamo avuto qualche problema io ho sentito fin dall'inizio ho sentito tutto ah ok perfetto abbiamo avuto un problema tecnico quindi diciamo che ho cercato di correre tu devi doate la parola cinque minuti dopo passo alle ragazze che dovevano parlare prima di te ma a questo punto doate la parola perché so che devi scappare sì purtroppo un altro appuntamento allora io in brevissimo posso innanzitutto confermare tutto quello che ha raccontato Karim fino adesso sia in termini di opportunità che in termini di difficoltà in termini di opportunità evidentemente ce l'avevamo studiato ma non c'era bisogno di studiarlo il Brasile è un paese di 200 milioni di abitanti è un paese emergente dal punto di vista dell'import di vino perché i margini sono ancora enormi il consumo pro capite poco più di due litri o poco meno non lo ricordo perfettamente quindi questo vuol dire che c'è tantissimo da crescere rispetto a paesi che sono arrivati anche a 40 litri per capite anni quindi c'è un sacco di spazio appunto mancano tantissime magari delle marche e delle tipologie di vino che siamo abituati a vedere in molti altri paesi più maturi da questo punto di vista quindi di fatto è un paese su cui puntare a lunga scadenza dal mio punto di vista noi abbiamo fatto la scelta l'anno scorso e di ingaggiare Carina direttamente perché abbiamo capito abbastanza in fretta che i brasiliani hanno un'abitudine tra le tante che è quella di lavorare con dei fiduciari in qualche modo delle persone di cui si fidano che hanno un'esperienza di lavoro nei paesi produttori di vino che a loro interessano e tramite i quali interagiscono attraverso le cantine ci avevamo provato prima di ingaggiare Carina interagire direttamente con importatori ma devo dire che unitamente a forse soltanto Singapore è stato uno dei pochi paesi da cui non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta quindi risposte zero totali su una campagna di contatto veramente massiva che faccio personalmente quindi ho gli stessi parametri di valutazione da paese a paese detto questo abbiamo ingaggiato Carina abbiamo iniziato a comunque entrare in contatto con qualche importatore poi abbiamo in ogni caso scelto di partecipare a Wine South America lo scorso anno per la prima volta abbiamo partecipato in modo abbastanza dignitoso lasciatemi dire comunque prendendo uno stand indipendente nostro perché volevamo comunque venire fuori in qualche modo come marchio abbiamo portato quasi tutta la nostra gamma prodotti che è abbastanza ampia perché nel nostro caso noi produciamo sia vini e spumanti tradizionali che l'Ono Alcol e ci siamo presentati in questo modo una cosa molto efficace che è successa al Wine South America così come succede al Wine Italy è stato il matchmaking perché lì il matchmaking viene fatto in modo decisamente efficace con un metodo efficace abbiamo avuto una serie di appuntamenti tutti con importatori super validi profilati con cui non avevamo mai parlato prima di quel momento e da quel momento tra i contatti avuti al matchmaking e quelli sviluppati presso lo stand e quelli sviluppati tramite l'attività diretta che ha fatto Carina e il suo team abbiamo iniziato ad avere delle relazioni insomma con questi importatori confermo una delle tante cose che diceva Carina prima i brasiliani si sono rivelati almeno nel nostro caso ma ho informazioni per dire che è più o meno una regola generale non dei fulmini nelle decisioni per cui abbiamo delle negoziazioni in corso ancora oggi alcune da Wine South America dall'anno scorso che posso dire essere delle negoziazioni attive alcune si sono chiuse alcune altre sono attive alcune altre sono state poi aperte invece nel corso dell'anno tramite un'attività di diciamo di relazione che è andata avanti tramite Carina col mio supporto e viceversa quindi per arrivare insomma a una chiusa sicuramente quello che posso confermare nella nostra esperienza di approccio al Brasile è che c'è bisogno di essere aiutati perché banalmente la logistica è un incubo è molto costosa molto complicata è un attimo incappare in errori che fanno rimanere poi i prodotti in dogana a fare la muffa peggio che in molti altri paesi e quindi questa cosa qui è veramente importante sapere come risolverla fin dall'inizio è molto importante essere supportati nei contatti con gli importatori perché come dico intanto molti di loro non parlano assolutamente inglese o non lo vogliono parlare lo parlano molto poco e quindi già solo questo è un gap io ho iniziato a studiare portoghese e sto portando avanti i miei studi portoghese perché voglio voglio assolutamente poter interagire direttamente con queste persone perché lì è molto importante e dopodiché ecco partecipare a Wine South America si è rivelata una mossa strategicamente necessaria tanto è vero che ripartecipiamo quest'anno con uno stand anche più grande perché appunto come dicevo ci sono tanti contatti tutti profilati c'è un grandissimo ambiente professionale c'è una grande voglia di scoperta di cose nuove alcuni hanno addirittura venduto direttamente in fiera e altri appunto come noi stanno portando avanti le loro le loro relazioni chiudo dicendo che anche da un punto di vista di tendenza vino confermo quello che diceva Karim prima inizialmente sono stati molto attirati da diciamo dai vini fermi rossi però perché sono quelli che sono più abituati a bere poi noi essendo produttori di Barolo Barbaresco Barbera sono DOCG piuttosto rinomate quindi comunque erano molto attenti a questo però poi dopo si sono rivelati molto attenti anche alle bollicine perché come dicevamo sono il tipologia la tipologia di vino che sta crescendo grazie anche alla principale occasione di consumo dei brasiliani che sono appunto le feste e i party per cui se mi sento di dare un suggerimento vi suggerisco sia di lavorare con qualcuno dei supporti sia di partecipare a Wine South America chiudo spero di essere stato esaustivo e non prolisso Antonio sei stato meraviglioso grazie anche se spero che qualche importatore uno c'è ma spero che gli altri non ci siano perché quando gli hai detto che sono dei pigrori che non sono molto veloce un po' lo so grazie 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 Antonio davvero grazie a Bosta grazie a voi per averci ceduto te ecco per questi minuti e quindi davvero no grazie a voi grazie a voi ecco io accelero ti lascio libero allora per la tua credo che Antonio grazie moltissimo lo potete trovare immagino in tutti i suoi Instagram LinkedIn quindi se qualcuno vuole anche contattarti no direttamente Antonio sì certo mi trovate come Antonio Romeo sia su Instagram che su LinkedIn poi se avete bisogno di un contatto diretto chiedendo la carina che magari così potete fare due domande calde anche lui senza intermediari in mezzo ecco io adesso passo la parola a quelle che sono le attrici principali grazie a te Antonio un abbraccio grazie davvero passo la parola a quelle che sono le attrici principali ok quindi agli ospiti d'onore noi abbiamo qui appunto Elisa che timidamente parla italiano buongiorno giusto Elisa buonasera ed è e sono buonasera Elisa viene arrivata e Simone che è appunto chi che sarà da fare per un po' spiegarci la fiera principalmente appunto come ho detto per noi è strategico partecipare perché tutto il lavoro che facciamo noi se non c'è poi quell'arrivo lì come diceva Antonio il matchmaking è una delle forze di questo di questo evento più tutti i lavori che facciamo dietro ma lì solo per passare prima di passare a Simone vi dico immaginate che siamo nel sud del paese nei confini con l'Argentina quindi uno che vuoi che viene che attraversa tutto il Brasile per venire lì per i vini e per chi ha interessi e quando ti siedi davanti hai l'importatore profilato perché loro cioè praticamente c'è questo lavoro come tutti i match no dovrebbe esserci questo lavoro di profilazione di interesse sincero interesse è fantastico perché loro poi lo fanno la mattina con noi a mezzogiorno inizia la fiera e loro vengono dopo gli stand con calma a degustare e continuare le negoziazioni quindi anche l'organizzazione è un'organizzazione che ci permette di essere anche una sola persona allo stand volendo perché comunque tutto lo facciamo al mattino totalmente sincronizzato con con come sapete bene però fantastico lascio Simone e lascio a te allora la parola che ci spieghi un attimino perché KDS perché noi abbiamo scelto di appoggiarvi qua in Italia ma di di essere di usare voi come strumento di ingresso come dico io la porta principale la prima fermata per italiani eh anzi l'anno scorso avevo più di venti venti brand com'è quest'anno saremo ancora di più quindi è importante proprio prego lascio a te la parola ben arrivata va benissimo allora grazie mille carini grazie a tutti per l'opportunità di parlare un po' scusi che il mio italiano non è troppo veloce e non troppo buono quanto di carini e Antonio ma qualche domanda sono qui allora mi chiamo Simone io e Elisa facciamo la parte internazionale allora della fiera Wine South America siamo il braccio sudamericano di Vinitaly allora loro hanno guardato un'opportunità di fare una fiera perché era scoperta le fiere di business in Brasile allora hanno guardato questa opportunità di fare una fiera e la facciamo allora insieme a Vinitaly abbiamo impensato a 2018 è stato un primo anno per guardare le opportunità per guardare come era il mercato anche e adesso stiamo crescendo anno fra anno no e adesso organizzando allora la quarta edizione Karine Karine aveva detto antes su questa cosa no la nostra città è Bento Gonzalves noi portiamo un po' della idea di portare vino che viene che viene per fare business è quelle persone che e no per bere no per fare business allora loro stanno interessati in fare business in conoscere io ho ancora appuntato qui che il consumatore brasiliano quando guarda un vino italiano lui spende un po' più in paga un poco più per bottiglia perché sa della qualità e questo è buono perché stiamo sempre cercando prodotti nuovi questo parlo come consumatore e come un Brasile in generale no Brasile fa questo vi parlo un po' dell'anno scorso che avevamo fatto avevamo 7000 visitatori di tutto il Brasile allora immagina di tutte le zone di tutti i stati di tutte desde un piccolino liquor store fino a un supermercato a livello Brasile fino a un supermercato a livello regionale perché questo funziona molto bene in Brasile avevamo di tutti e-commerce che è troppo fortissimo qui in Brasile e allora di questi 7000 visitatori noi abbiamo un programma insieme dal governo brasiliano che portiamo alcune con le spese pagate e questo è buono perché loro conoscono tanti vini non solo brasiliani ma esteri anche per mettere nel suo portafoglio no è un'opportunità unica e come Karine e Antonio hanno detto su il B2B no il business round questo è la nostra più grande fortalesa che la facciamo durante la mattinata perché sappiamo sempre che andiamo in una fiera normalmente è una persona un export manager e dobbiamo fare tutto per approfittare un po' meglio il tempo no? allora la facciamo durante la mattina incrociamo il vostro profilo tanto del produttore il tipo di prodotti uve il tipo di prodotto che stanno portando i valori tutto questo con il profilo dell'importatore per esempio ho bisogno di un brunello a 6 dollari e questo noi incrociamo allora voi venite alla fiera già con 6 a 8 riunioni cada uno per fare questo asseggio parlare insieme dei compratori io ho lavorato da due anni fa in una consulenza e sappiamo che difficoltà è per i stranieri arrivare al compratore brasiliano cosa Karina ha detto è la più grande verità i brasiliani vanno per conoscenza e questo è buono no? quando tu siedi in front al compratore e puoi parlarci raccontare un po' di storia sappiamo vendere vino e vendere storie no? 20 minuti con un compratore è buonissimo e questo noi intreghiamo a tutti gli espositori dall'estero e questo è la nostra grande differenziale e credo che un po' di questo Karina ha parlato molto bene sulla grandiosità del nostro paese è troppo grande delle volte le aziende immagino ah io sono a Brasile ho un importatore ma il Brasile è troppo grandissimo allora c'è molte opportunità e questo è buono stiamo qui per aiutarvi stiamo già organizzando desde l'ottobre fino il settembre tutto organizzato stiamo già in contatto con vari produttori italiani francesi spagnoli portogallo sudamericani anche allora voi voi venite e voi guardate l'opportunità di business in questi tre giorni non so c'è qualche dubbio che non è stato chiaro vi posso aiutare con qualcosa altro hai fatto guarda faccio io velocemente così dopo lascio la parola loro perché poi volevo far parlare Luis per la dogana tu adesso hai parlato proprio di sudamerica no e l'opportunità è arrivata una domanda in privato che fa qual è aspettate se non sono chiari sapete come viene fuori la domanda qual è la partecipazione di importatori acquirenti di altri paesi al di fuori del Brasile quindi se c'è la possibilità appunto di fare business con altri buyer con altri importatori insomma sì noi avevamo un programma insieme del governo brasiliano che portiamo importatori di alcuni paesi esteri per esempio l'anno scorso avevamo Stati Uniti un monopolio di Canada avevamo anche alcuni importatori da Russia alcuni importatori europei e anche alcuni di Sud America no non sono grossa quantità 10 12 ma loro stanno cercando o di quelli che abbiamo parlato come stai le negoziazioni dopo la fiera e tutto questo e loro non solo hanno fatto business con i brasiliani hanno fatto con altri allora oggi per la mattina abbiamo parlato con un importatore di Ucrania allora lui va a venire e questa c'è l'opportunità no? credo che chi non si fa vedere non c'è l'opportunità di fare di conoscere di stare in contatto con i compratori anche c'è delle che chiamiamo progetto immagine che è su i giornalisti che loro vengono fanno della copertura anche che è importante loro stanno assaggiando i vini mettere su una rivista mettere su Instagram che questo come Karina ha detto è molto importante in Brasile è una forma di ricerca allora un po' di questo avevamo importatori di altri paesi anche perfetto non so ci sono guarda c'è un'altra sono due domande anche ho avuto dei feedback del Brasile del quale si evince che i vini autoctone non conosciuti sul mercato sono difficili da introdurre dicono che non c'è grossa curiosità non so lascio te la parola noi siamo nel sud delle marche e abbiamo i nostri rosso piceno falerio passerina pecorino si vanno tutti ma anche delle bollicine allora questa era la prima domanda lui vuole sapere questo se c'è la curiosità l'interesse che io lascio a te la parola oppure rispondo io come vuoi te io lascio tipo il mio va benissimo allora sull'autoctone che hai parlato sì c'è l'opportunità perché il consumatore brasiliano non è come fiducio che si chiama carine sì non è fedele a un unico a un unico prodotto vuole assaggiare tante cose allora c'è l'opportunità può essere un po' difficile di convincere ma quando arriva a gondola in un liquor store in un supermercato le persone guardano con altri occhi perché è una cosa diversa è una cosa che non si guarda sempre e ancora stanno come aperti a pagare un po' più su questo allora questo credo che è un po' difficile l'inserzione ma inserimento ma l'opportunità c'è e credo che il consumatore è molto curioso ecco do un valore a questa tua risposta Simone perché sì sempre di più c'è curiosità il brasiliano è un popolo che viaggia tantissimo e qui vengono spesso in Italia perché sono tantissimi discendenti italiani quando vengono qui toccano con mani le realtà italiane che sono appunto come sappiamo varie tante e quando tornano in Brasile c'erano questi prodotti quindi spazio c'è è certo che noi ogni regione ha la sua influenza e tutto dipende molto dalla comunicazione che vieni fatta noi abbiamo un'azienda anche della tua regione che si può anche dire con velenosi abbiamo fatto un lavoro in Brasile con il lacrima di Moro d'Alba che nessuno sapeva cosa fossi e tutto lo storytelling che c'è dietro a a certi vitigni è quello il segreto dell'avvenita con il Brasile loro sono curiosi e sono disponibili come dice Simone che questo è molto interessante a pagare di più perché questa è la diversità è l'unicità è cose che loro non hanno tutti i giorni come avete voi infatti i vitigni internazionali hanno un po' più di competitors mentre questi hanno più opportunità invece dipende sempre come vengono presentati e questa è molto interessante ottima domanda lui fa sempre la domanda riguardo ai costi che adesso vi dico tutto sul progetto anche con noi il senso di noi come fare gli assaggi di tanti vini in fiera allora sui costi dopo quando ho finito riceverete tutti un link basta rispondere lì e io vi mando un po' quella che è la nostra presentazione generica però anche la disponibilità di fare una telefonata perché qui si apre un mondo perché potete prendere un desk nel mio stand o potete prendere uno stand di 40 50 60 metri quadri quindi i costi va montato secondo un po' quindi io vi posso dire qual è il minimo o meno ma dipende sempre dall'obiettivo dell'azienda come si fanno tanti assaggi allora le persone sono lì per questo e quindi è una fiera di vini quindi sono lì per quello e l'Italia ha una specie di isola noi abbiamo l'anno scorso c'era Gabriele Gorelli che è stato a fare tutte le masterclass lì da Ita davanti al nostro stand e c'è tutto questo spazio dedicato all'Italia che naturalmente essendo poi la maggior parte di questi del sud anche discendenti tira molto l'attenzione come Simone ha detto c'è un lavoro di stampa di ufficio stampa incredibile e anche sull'Italia perché ragazzi lì l'Ita lavora che è una meraviglia questo bisogna dire lì c'è no e fa un lavoro di comunicazione straordinario con i vini italiani quindi noi diciamo riceviamo molto questo da loro ok quindi sì c'è c'è possibilità di assaggio e di dopo perché in effetti il nostro commerciale tutte le ragazze sono qua presenti il nostro commerciale lavorano anche nel follow up quindi gli appuntamenti ognuno dei miei commerciali è un pezzo di Brasile che va a dare a continuazione quello che viene fatto in fiera un'altra domanda qual è la dimensione media per i vini bancale cinque bancali container allora Daniel ti rispondo questo poi passo la parola a Luis allora ti dico come lavoriamo noi ok in Brasile non c'è un minimo per legge ma c'è naturalmente un test di mercato come tutti i mercati noi cerchiamo di fare un palette minimo per fare un test di mercato anche perché quello ti dà nel momento della simulazione che fa Luis per noi ti dà un presso di mercato il mix è praticamente se tu per compri un container è certo che ti costi meno e quindi noi prendiamo come il palette come la tara cioè come la misura minima nostra per test perché il produttore testa l'importatore testa testiamo anche noi e definiamo lì un presso ok istoganato di questo vino e che va a posizionare questo vino perché naturalmente il posizionamento è quello che ci dice poi dopo dove andare piuttosto che a San Paolo Rio Grande do Sul o Minas Gerais o nei mercati nuovi ieri si parlava con l'asiana di Lambrusco e qualcuno mi ha detto guarda che però Lambrusco non si vende più non è vero non è vero assolutamente è uno dei vini perché perché prima cioè quelle che sono le regioni più mature vanno su altri vini le regioni che invece stanno iniziando adesso iniziano tutti da lì dall'Ambrusco dal primitivo da quelli che hanno un palato più dolce più vicino ai brasiliani i brasiliani hanno un palato dolce quindi c'è mercato per tutto noi lavoriamo con aziende che costano un po' meno però lavoriamo anche con aziende di lusso perché comunque il Brasile è bello perché è vario e ha 26 stati cioè se noi pensiamo agli stati sarebbe un importatore per stato se vogliamo fare questo di strategia quindi c'è lavoro per sempre oppure uno nazionale ma che è difficile perché deve esserci un gran investimento di brand diciamo la verità ma questo si parla già di strategie stiamo andando oltre io vorrei Simone guarda ti ringrazio tanto volevo toccare velocemente un tema importante che è quello della spedizione della campionatura perché la fiera appunto richiede io vado in fiera non posso andare in fiera e non far degustare il mio vino ma sappiamo bene qui arriva Luis che ci sfatta quegli miti e ci racconta un po' di regole come è complicato il Brasile ok come l'attenzione che ci vuole in questo momento perché molti produttori si traumatisano in questa fase perché trova troppo complesso ed è vero che è complesso e dopo perdi alle volte perdi anche l'opportunità di andare avanti perché non è per niente facile Luis ci racconti Simone grazie comunque ti invito a stare lì e siamo sempre aperti a tutte le domande quindi Luis ci racconti un pochino solo per chiudere l'ultima domanda sempre di Daniel Daniel dipende sempre dal valore del prodotto anche se noi vendiamo un vinto a dieci euro ne facciamo al minimo un pallet ma se mettiamo con la rete di supermercati per il volume per il fatto che loro hanno bisogno di prezzo quindi la strategia per loro è anche ottimizzare trasporto e costi naturalmente che lavoriamo sul container ok questo è un pochino un lavoro strategico Luis ben arrivato ciao mi senti? ciao a tutti vuoi parlare in italiano? proviamo in italiano? non riesco a parlare in italiano ok allora ok vai piano così io cerco di fare la ecco Luis volevo che ci spiegassi un pochino un po' questa parte Luis il nostro punto di riferimento da più di 12 anni che lavoriamo insieme in Brasile che fa parte appunto della nostra squadra per quello che è tutta la simulazione inserimento dei prodotti di qualsiasi categoria quindi la sua struttura si occupa per noi della strategia logistica e di importazione che è fondamentale che ci dà appunto la simulazione ci dà il prezzo di conseguenza il posizionamento perché se sbagliamo lì stiamo sbagliando su un continente e il danno economico può essere veramente grande anche di energia quindi Luis ben arrivato prego ok è importante a gente falar di operazioni nella operazione che a gente sta comentando oggi ma voltata per la feira a gente tem situazioni che stanno nel nostro controllo e situazioni che non stanno nel nostro controllo la receita federal e il ministerio dell'agricoltura non stanno nel nostro controllo ok aspetta che vado allora lui diceva appunto che dipende da ci sono operazioni e operazioni oggi adesso vi parlerà solo esclusivamente di quello che è il tema della giornata che è l'operazione che viene fatta per la fiera quindi l'invio della campionatura e ci dice che ci sono situazioni che ci stanno sotto il nostro controllo altre no la receita federal cioè la aduana la dogana ok l'organo che appunto fa tutti i controlli quindi la receita federal più il ministerio dell'agricoltura quindi il mappa che sono quelli direttamente coinvolti nell'import del vino non stanno sotto il nostro controllo prego vai esatto então o che noi podemos fazer ben feito e precisa ser ben feito è a questão di informazione do prodotto e do produttore na origine abbiamo che classificare bene il prodotto definire il prodotto e fare un buon lavoro di origine e questo sempre è una question che ha un altro fattore che ci incomoda e interfere bastante che è il tempo di processo geralmente le operazioni non ci danno il tempo sufficiente per fare il processo adequatamente e poi no final ci trava il processo ok allora riassumendo lui dice appunto che siccome noi non abbiamo il controllo di questa situazione a destino quello che dobbiamo fare è un ottimo lavoro all'origine ossia tutto quello che è la classificazione del prodotto tutto quello che è la determinazione non so adesso l'indicazione del produttore con tutte le informazioni i documenti che vengono richiesti deve essere fatto molto bene per evitare tutto quello che può succedere all'arrivo che poi appunto il processo dopo si blocca perché non è che lì non si può più intervenire la maggior parte delle volte il danno esiste già d'altra parte dice anche che l'altro nemico di tutto questo è il tempo perché per processare tutti questi documenti elaborare tutto quello che è necessario per la dogana e non solo è l'arrivo del prodotto lì e lo sloganamento e il processo di controllo sono tempi lunghi e quindi non sempre abbiamo il tempo a disposizione quindi si tende a fare un po' di corso all'origine è lì uno dei problemi certo? Esatto As informazioni all'origine sono importanti a cada dettaglio inclusive la questione del peso può travar una operazione al final generalmente ci sono delle piccole cose che possono sembrare piccole per gli italiani perché non fa parte della cultura ma che per noi è una delle cose che ti fa bloccare tutta l'operazione se non perderla è ad esempio il peso tecnico il peso dei prodotti e quindi vengono fatti sempre dei pesi molto indicativi molto perché non è un'abitudine da noi questo è un dettaglio tanto importante che ti può mandare in area tutta l'operazione quando tu determini impacchi in lista un peso e la merce arriva là con un altro quindi era un esempio giusto prego prego Luiz è isso a questione se fizermos un buon trabalho na origine con informazioni del prodotto con procedimento corretto la chance di a gente ter successo na operazione final vai ser molto grande perché a operazione do meio che è la parte logistica a gente tem controlli queste due punti sono un po' più difficili prima da origine per causa della cultura e secondo qui nel destino per gli organi federali che attuano nel processo ok allora lui dice appunto che in questo processo le due punte sono la parte un po' più delicate all'origine perché è un discorso culturale siamo molto pignoli e alle volte la vostra cultura e il tempo che avete a disposizione non permette di stare dietro a quelle chi è presente e lavora con me sa quante volte io faccio rifare un invoice un annexo un certificato di origine questi mi odiano ma sa l'importanza sta proprio in questo noi qui dobbiamo essere talmente tanto precisini per evitare che alla fine rimangano ci siano dei danni Fabiano grazie a te ti mando tutto ti mando la registrazione e quindi mentre tutto l'interno di questo processo che è l'operazione logistica la strategia del porto di ingresso perché così va a pagare un po' meno tasse piuttosto che perché anche lì è una strategia noi abbiamo ogni porto che ha una una regola fiscale diversa e quindi noi dobbiamo ogni volta secondo la nomenclatura doganale del prodotto analizzare dove è più economico e che tipo di modal è più economico l'anno scorso abbiamo fatto le operazioni per la fiera fantastiche però fino all'ultimo non sapevamo se si pagavano le tasse se non si pagavano le tasse perché adesso infatti Luiz ci dirà che anche i campioni giusto Luiz pagano è una importazione effettiva perché c'è un consumo del prodotto come funziona ci spieghi un po' o no ecco si per eventi di tipo WSA noi abbiamo condizioni di fare operazione senza imposti ma bisogna bisogna avere un procedimento desde la origine quindi bisogna saber i prodotti chi sono i expositori no caso perché ho che chiedere liberazione na agricoltura antes di embarcar ok per questo ho che ho ho la persona o expositor nel caso responsabile per il stand tem che ten un contratto un accordo per che possa presentare il ministro dell'agricoltura e io consigo fechare l'operazione con autorizzazione di embarca se il prodotto e si consegue liberazione senza un imposto federal ecco riassumendo questa è una parte importantissima che appunto siccome in Brasile la legge non permette l'invio di campioni in questo caso che sono i casi della fiera ci dice lui guarda noi possiamo non dover fare un'operazione di importazione definitiva ma un'operazione per la fiera se seguiamo quelle che sono le regole il contratto dell'espositore con la fiera tutte le informazioni all'origine del prodotto precisine in modo che noi c'è la parte di 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 organo e faccia la richiesta al ministero dell'agricoltura di isenzione di queste tasse per la partecipazione quindi comprova tutto insomma è tutto tracciabile come lavorare con la CM molto più rigido perché poi la CM e quindi naturalmente lui così ha il tempo di chiedere però ragazzi abbiamo tempo per quello che uno mi dice ma scusa la fiera settembre perché fermare per questo per questo perché il tempo è il nostro nemico allo stesso tempo se facciamo bene diventa il nostro miglior amico quindi tutto questo significa pianificazione e strategia anche perché certo che se io per mandare tre cartoni con sei bottiglie devo spendere 1200 euro via aerea come l'anno scorso in tanti hanno fatto perché hanno spedito l'ultimo secondo perché hanno fatto tutto l'ultimo secondo e anche lì non sapevamo fino quando eravamo in Dogana cosa fare cosa fare che purtroppo deve uscire dentro che era un'ora appunto vi mando tranquilli ma stiamo chiudendo adesso aprirò le domande e quindi Luis strategia organizzazione quindi riusciamo a mettere questi prodotti in mercato anche senza se lavoriamo bene giusto è è as regole sono le ma bisogna le 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 si è il punto di ruptura del processo se non fissero un buon lavoro non non conseguo resolver o fare la libero adequada qui no destino quindi abbiamo che lavorare forte la origine per che a orienter perché a gente ha un poco di resistenza in attendo a orientazione ma se ma accontessendo, il risultato va a essere positivo. Ok, allora ci dice appunto Luis che è l'origine il segreto di tutto. Quindi se tutto il lavoro viene fatto bene all'origine non c'è perché esserci un blocco al destino. Quindi naturalmente ci vuole l'attenzione, rispettare tutte quelle che sono le indicazioni. Quindi essere molto precisi. Perciò quando noi parliamo di questi documenti, queste analisi, non sono cose che vanno fatte così. Non è perché in Russia si fa così o in Cina si fa così. Il Brasile è un paese a sé. È un paese a sé. E vi dico un'altra cosa. È estremamente protezionista. È un paese che ogni giorno crea una normativa nuova perché protegge tantissimo il suo mercato. E dice, vuoi venire da me? Ok, investi qui, ti apri qualcosa e vendi. Non ti faccio le storie. Ma finché c'è l'export, i tassi sono alti, le tasse sono alte. Ma non solo le tasse, è proprio il sistema di controllo. E quindi come dice Luigi, appunto ribadiamo se lavoriamo bene alla base, all'origine e all'arrivo non abbiamo, abbiamo tante aziende che lavorano con noi che non hanno mai avuto niente. Ci sono quelle un po' più leggere che sembra che vogliono pagare per vedere. effettivamente, quindi questo è il problema. Luisa, non so se ci sono domande, se tu vai aggiungere altro. Allora, per cercare, per cercare un paràmetro, è importante dire che a Receita Federal a più di 30 anni la lavorano tutto automatizzato. l'arrivo. 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 Allora, personalizzato, sia la practicare. Mentre inеров, l'arrivo. Il 'arrivo. Questo è molto importante. quello che ha detto lui che da trent'anni che la dogana brasiliana la resente federale lavora un sistema automatizzato che infatti noi siamo un paese altamente automatizzato e che negli ultimi anni tutti gli altri organi che compongono questo sistema dell'importazione in mappa e tutte gli altri organi revisori insomma controller sono tutto è tutto un sistema e quindi niente è personale con le persone quindi ehm le regole sono quelle non è che arrivi lì e c'è l'amico che te la fa un po' più easy magari qualche anno tanto tanti anni fa può anche essere che ci fosse adesso non c'è più questa possibilità o è così è così e quindi non riesci è molto difficile che di persona tu abbia l'opportunità di fare un intervento noi stiamo attuando in un processo abbastanza complicato con un importatore e ci rendiamo conto che ogni giorno è il versare dei documenti presentare dei documenti per vedere se il sistema lavora eh approva o meno e quindi questo è un'altra insomma il controllo così automatizzato insomma ehm può essere positivo se noi siamo bravi perché passiamo velocemente e rimaniamo registrato buoni però quando c'è la leggeressa purtroppo ci becca io ho due domande Luigi eh Luis ti sto italianizzando una è chiedi buongiorno nei primi anni a questa forse più per me perché è più commerciale allora nei primi anni del duemila ho frequentato il Brasile per cinque anni eh beh qui consecutivi partecipando anche a una fiera a San Paolo ok una fiera a San Paolo produco soave eh doc e volpolicella in quegli anni ho trovato difficoltà a parlare produrre e proporre soave perché è sì un vino ma per il brasiliano era una parola con sinonimo di vino dolce e beverino ma sempre ma senza alcuna importanza è ancora così allora Stefano eh sì la parola soave significa delicato e quindi quando non c'era la cultura che c'è oggi ok sì ancora eh si parli con uno che sta approcciando al vino eh si parla di Barolo di tutte quelle denominazioni internazionali cioè che conosciamo in tutto il mondo come italiane come anche volpolicella ormai non ha più non ha questi problemi ok per parlare di soave ecco il posizionamento anche lì ok noi non possiamo parlare con uno che ha iniziato a bere adesso il vino questo è uno che ha già creato una 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 forma di cultura ed è curioso per eh per andare o no per andare oltre eh però naturalmente negli anni duemila duemila e cinque tu eri all'inizio dei vini importati e chi comprava vino italiano era solo chi faceva un viaggio e si tornava ed era un oggetto di ostentazione cioè lo è fin oggi però era molto di più oggi c'è più cultura eh invece c'è un'altra domanda per Luis anzi per Luis mi sa che ce ne sono tre aspetta c'è anche una regione eh per la venta dei vini premium San Paolo è l'unica migliore opzione no anzi San Paolo c'è una gran c'è un gran potere d'acquisto ristoranti stellati meravigliosa però anche una gran competizione il Brasile è molto ricco ci sono degli stati come Goiais ma come adesso anche Manaus che dove c'è vicino all'Amazonia è uno pezzo ma io vado a vendere vino all'Amazonia eh sì e non avete idea di quanto lì c'è una zona franca dove tutte le aziende più ricche producono e quindi c'è consumo e quindi deve conoscere il il paese perciò non è solo San Paolo ehm poi la domanda invece sull'olio d'oliva eh per quanto riguarda l'olio puoi farlo un brevissimo ceno se regolato come il vino lo vuoi dire te lo dice che rispondi eh ok mi 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 lo dice te per l'olio pronto Carini e quindi più o meno sono quelle le regole sono quasi l'unica differenza l'olio ad esempio noi possiamo venderlo in bulk o è cambiato già qualcosa? No credito che no Carini io precisaria questo bisogna guardare ecco perché ho fatto un lavoro e mi ricordo quindi l'olio ha qualche qualcosa diversa del vino però non voglio dire io cavolate perché è il tuo di lavoro eh per piccole quantità la cantina è bene è bene cerchi di di estri di gestire ordine e logistica o è meglio trovare qualcuno con cui fare gruppare con natri produttori non è non fatina gruppare naturalmente eh você quer responder Luiz? Você entendeu a pergunta? Quer que eu te traduza? Para as pequenas quantidades para as pequenas quantidades a cantina é melhor que ela procure gerenciar os pedidos e logistica sozinha ou que ela se coloque em gruppare con outras empresas? Para o custo? É melhor agrupar você quanto menor a quantidade mais caro vai seu preço unitario eh quanto minore quanto minore la quantità più grande sarà il costo non più alto sarà il costo unitario della bottiglia a destino quindi naturalmente per abbattere diciamo questo eh è meglio quello che noi diciamo sempre anche lavorare in rete magari quindi quelle tre quattro piccole con i produttori meglio che si mettono assieme per fare le spedizioni almeno un po' più ottimizzate come i costi questo Marco mi hai dato un input anche per ricordarvi per la fiera ad esempio noi facciamo un input unico per questa per questo motivo perché naturalmente la fiera noi possiamo noi diciamo un cartone per referenza se ogni asiana deve mandare cinque cartoni la spesa enorme quindi noi ce lo facciamo mandare a noi come KDS e io sono l'esportatrice unica di un groupage misto ok quindi perché tanto è che il contratto cerchiamo di fare sempre se la logistica viene gestita così a nome nostro in fiera proprio per eh per abbattere questi costi quindi è una delle delle chiavi strategiche per entrare nel mercato anche in un momento fieristico ok Marco rispondendoti eh insomma eh Emanuele l'ha già risposto per piccole io direi che non so se ci sono altre domande anche alzate la manina potete parlare visto che eh approfittatevi che c'è Luis qua che è quello che vale oro e ci sono le ragazze e ci sono grazie a te Marco le ragazze della fiera perché insomma diciamo questi sono i pezzi importanti in questo momento quindi se qualcuno a domande io Luis comunque intanto ti ringrazio tanto ok eh perché in effetti insomma poter intanto fare un piccolo intervento in questo momento è fondamentale ehm non so se appunto se non sono altre domande se volete se Simone se chiede adizionare una cosa vuoi dire qualcosa eh credo di no per il momento eh se c'è qualche dubbio anche Karine puoi puoi mettere Karine anche noi insieme stiamo qua per aiutarvi eh al tanto delle campionature della fiera del dubbio che c'è su qualcosa eh sul nostro site Karine non so se vuole dire c'è un c'è un spazio eh che chi compra il ticket aereo insieme eh c'è un un sconto allora è buono questo e avevamo gli hotelli e alberghi che sono sì che la fiera ha tutte le le partnership ufficiali è meglio passare da lì perché così si risparmia ecco sì infatti anch'io faccio così grazie grazie eh io ho altre due domande alcune alcune sono state indirettamente già risposte dalla eh dal discorso di Luis e di Simone però ho un'altra domanda qua che mi chiedi il prosecco è considerato un competitor dello spumante brasiliano? No? Eh giusto? Perché il prosecco ha un'identità tutta sua è un prodotto molto desiderato in Brasile e molto richiesto naturalmente così come altri spumanti ecco abbiamo parlato prima del discorso degli spumanti e vi faccio una una piccola premessa i brasiliani sanno che in Italia si spumantizza un po' tutto e al loro sono molto aperti a al 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 vino autoctone quindi vini eh spumantisati perché le bolle piacciono quindi questo anche Antonio prima ha dato questo input tenete presente quando definite eh il portfoglio di vini da proporre perché molte volte mi arrivano tutti i viti internazionali pensano che sia che sia più facile da vendere e certo che sono curiosi anche su un merlot un chardonnay un sauvignon di un territorio come l'Italia è chiaro però è sempre ehm è sempre più interessante più attraente più sexy eh le bolle autoctone quindi eh non so il prosecco ci ha aperto un mondo prosecco naturalmente è molto valorizzato anche da noi ci sono poi quei prosecchi da poco che sappiamo benissimo che eh noi non consideriamo nemmeno ma eh il mercato non considera questo il spumante brasiliano non è un competitor nostro è un nostro amico perché ha abituato il palato brasiliano alle bolle e e l'evoluzione sono i diversi champagne anzi consumo di champagne mi ricordo quest'anno che abbiamo fatto anche a dicembre per Natale non c'era una bottiglia di champagne disponibile sul mercato brasiliano noi siamo uno dei paesi che ha il più grande consumo di champagne adesso anche i trento doc sta andando tanto che fino a poco tempo fa non era conosciuto ma grazie appunto al lavoro di marketing fatto da Ferrari e vedi benvengano tutte quelle aziende che comunque aprono anche un mercato così importante per noi no? Perciò attenzione soltanto perché lì subentriamo ne quello che è il punto di Luis eh gli spumanti vanno definiti bene va fatto le analisi anche sulla sulla cioè no sulla su fattore spumatizzazione non so come si dice in italiano spumatizzazione ecco sì gas è cioè di quanto gas c'è o meno sia un frisante piuttosto che è molto importante questo e ultima domanda ce l'ho guarda sempre negli anni duemila quando ero in Brasile ho visitato diverse cantine Salton Garibaldi tutti producevano prosecco sì eh infatti sono la città dove facciamo l'evento giusto Simone la fiera è a Bento Gonçalves dove c'è Garibaldi è lì a fianco poi c'è Miolo che è un'altra azienda molto importante noi stiamo adesso facendo il processo di importazione della Valduga che è un'azienda brasiliana enorme e che fa degli spumanti fantastici e quindi per l'Italia quindi presto arriveranno quindi voglio dire è comunque un mercato interessante ma non competitor quindi spumante piace molto l'asti anche i brasiliani quindi diciamo che il palato brasiliano si è voluto molto solo per chiudere anche la mia parte eh chi inizia certamente cerca il dolce perché il popolo brasiliano ha un palato dolce noi siamo il paese della canna di zucchero la nostra coca cola mi piace sempre dire che ha venti per cento in più di zucchero di qualsiasi altra coca cola del mondo eh i bambini quando piangono i pediatri dice dà la camomila con lo zucchero quindi il nostro palato è dolcissimo naturalmente l'evoluzione è passare da questa prima fase a eh e quindi c'è spazio comunque per tutto per tutti non so se se ci sono altre domande se no io sono andati abbastanza oltre ma credo che era anche dovuto perché era interessante avevamo tante cose da dire sono rimaste anche tante cose da dire eh sono molto contenta da la partecipazione di tutti e quindi gli amici ospiti clienti e chi anche non non ci conosceva eh ringrazio di cuore anche Simone e Lisa eh che hanno che sono venute e si sono prestate eh eh ma è un relatore speciale Luis che eh specifico rimaniamo a disposizione anche per le domande belture se vogliono iscriverci il oh oh ai partecipanti mi invieremo un link appunto naturale ma anche la possibilità che ah grazie grazie Matteo ah mio audio non mi sentite vabbè tanto chiudo adesso per prendere un appunto temente con me per fare una chiacchierata sulla fiera noi abbiamo bisogno però che sia una cosa veloce perché appunto stiamo chiudendo abbiamo già uno spazio con 14 aziende da una parte ma stiamo chiudendo è importante l'organizzazione come avete capito quindi se volete ci sentiamo, parliamo perché è importante essere lì insieme io con Wine of America noi facciamo un lavoro eccezionale c'è tutto il mio commerciale che è qui con noi tutti i ragazzi, tanto Italia e Brasile ci uniamo per far sì che questa fiera sia il primo passo positivo quindi facciamo un test e se siete soddisfatti poi entriamo insieme in Brasile possiamo però partire appunto da questo test grazie ancora grazie a tutti questi a questi bellissimi complimenti anche e vi chiedo scusa della gestione internet zoom iniziale una buona giornata non so a Luisa e Simone se volete fare un ringraziamento anche a Antonio che è già uscito non so che esistono se volete fare un ringraziamento lascio a voi la parola va benissimo grazie mille a tutti se c'è qualche dubbio rimangono in qualche cosa fammi sapere tutti non c'è problemi c'è il nostro contatto di Karine e stiamo qui per aiutarvi vi aspettiamo allora a settembre a Bento Gonçalves ci vediamo ciao grazie tesoro grazie anche l'Elisa Luisa chiedi una cosa grazie a tutti lavoriamo insieme per WSI grazie visto che l'italiano qua migliora piano in piano sono 12 anni dovrebbe vergognarsi comunque grazie te adoro grazie